Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con la professoressa Berardi del dottor Pistelli. Ecco, professoressa Berardi, molte novità in oncologia insomma riguardano le terapie. Si sente molto parlare di nuovi farmaci biologici e di immunoterapia. Ecco, ci vuole dire di che cosa si tratta? I farmaci biologici sono dei farmaci intelligenti che colpiscono miratamente dei bersagli, molto spesso proteine o geni, espressi dalla malattia tumorale. Hanno quindi un meccanismo d'azione mirato, diverso da quello della chemioterapia tradizionale e quindi ci aspettiamo delle risposte più elevate, almeno in alcuni sottogruppi di pazienti che sono quelli che esprimono nella loro malattia il bersaglio, a fronte di una tossicità molto più modesta. L'immunoterapia è la quarta arma stata definita così in ambito oncologico e ha un'azione ancora differente, nel senso che va anche a stimolare il sistema immunitario a reagire contro la malattia e lo fa a volte attraverso la possibilità di colpire dei checkpoint, appunto dei bersagli che rientrano nell'ambito dell'attività del sistema immunitario. È una terapia molto nuova, è molto recente e si può anche integrare con le terapie tradizionali esistenti, quindi anche con la chemioterapia. Diciamo, è una risposta più positiva per il paziente rispetto alla vecchia terapia tradizionale? Sono terapie complementari, nel senso che una non sostituisce completamente l'altra, ma ha l'azione, l'immunoterapia in particolare, appunto di, andando a stimolare il sistema immunitario, potenziare quella che è un'attività antitumorale. In realtà non vediamo molto spesso delle risposte brillanti, immediate sulla malattia, anzi, addirittura facendo l'immunoterapia, talora all'inizio vediamo un ingrandimento della malattia. Questo perché molto spesso si verifica l'infiltrato da parte delle cellule della serie della difesa che possono in qualche modo ingrandire lì per lì la massa della malattia, ma è un ingrandimento temporaneo, molto spesso, definito pseudoprogressione, che lascia il pasto poi ad una risposta più tardiva. E quello che ha dato di beneficio l'immunoterapia, specie in alcune malattie in cui non c'era terapia fino a pochi anni fa, come il melanoma, è che addirittura una buona percentuale dei pazienti, circa il 20%, mantengono questa risposta e sono lungo sopravviventi o addirittura guariti. Ecco, ma questi farmaci, professoressa, possono essere utilizzati in tutti i pazienti, in particolare magari anche l'immunoterapia? I farmaci biologici in generale sono ormai disponibili un po' in tutte le patologie tumorali e quindi vengono utilizzati da soli in sequenza o in associazione con i trattamenti più tradizionali come la chemioterapia. L'immunoterapia è già una realtà, attualmente disponibile nel melanoma e nei tumori polmonari, ma è in avanzata fase di sperimentazione nella maggior parte dei tumori. Quindi è possibile assolutamente usarli in queste due patologie, ma è possibile accedere nell'ambito di protocolli sperimentali, nei centri in cui questi protocolli sono attivi, anche per altre patologie. Ecco, dottor Pistelli, lei in particolare si occupa di tumori al seno, ma in questo ambito ci sono ugualmente nuovi farmaci che possono essere impiegati? Dunque, il tumore della mammella, devo dire che è una malattia dove abbiamo tante armi terapeutiche a disposizione. L'immunoterapia in questo momento è ancora in una fase molto preliminare di studio, nel senso che il tumore al seno è avvenuto dopo altre patologie e quindi sono partiti solo recentemente alcuni studi, tra l'altro con dati veramente molto interessanti, molto molto promettenti, però ancora parliamo appunto di sperimentazione clinica, quindi non abbiamo ancora farmaci immunoterapici che possiamo utilizzare nella pratica clinica nel trattamento del tumore al seno. Il tumore al seno, come dicevo, però ha tante altre opzioni terapeutiche, si va da farmaci ormonali, quindi terapie ormonali che bloccano ad esempio la produzione ormonale, che può in qualche maniera agevolare il controllo della malattia, e farmaci anche qui biologici, quindi terapie cosiddette intelligenti, come appunto diceva anche la professoressa Berardi prima, che sono in grado effettivamente di rallentare la malattia, quindi nei casi in cui la malattia si presenta purtroppo in una fase già avanzata, oggi siamo in grado, come la definiamo noi, di cronicizzarla, cioè di rallentarla talmente tanto che le pazienti effettivamente convivono con la loro malattia anche per tantissimo tempo, anche per molti anni. E poi effettivamente ci sono, ormai si sta effettivamente ragionando anche in termini di personalizzazione un po' della terapia che noi utilizziamo come prevenzione dopo l'intervento chirurgico. Oggi i trattamenti sono molto più personalizzati di un tempo, vi è una modulazione diversa anche della terapia farmacologica che noi offriamo ai pazienti, e questo nell'ottica anche di una personalizzazione maggiore del trattamento, quindi c'è effettivamente molto in questo tipo di settore. E c'è molto anche in termini di nuovi farmaci che arriveranno, perché tante armi terapeutiche, alcune ne arriveranno probabilmente già il prossimo anno, e devo dire che noi siamo fortunati perché in Ancona abbiamo tanti studi clinici in corso, e siamo in grado di arrivare spesso prima rispetto ad altri centri su farmaci nuovi che possono poi effettivamente cambiare l'andamento di questo tipo di malattia. Ecco, ulteriori novità in questo settore ce ne sono, dottore? In particolare arriveranno probabilmente già il prossimo anno farmaci che possono essere combinati alla terapia ormonale, cioè farmaci che effettivamente bloccano la produzione ormonale e che però agiscono su un target della cellula che facilita la crescita tumorale, quindi la proliferazione del tumore, che effettivamente potenziano proprio l'azione di farmaci che sono già in utilizzo nella pratica clinica. E questi farmaci se ne è parlato molto agli ultimi congressi, probabilmente in Italia verranno registrati non prima della fine del 2017, in alcuni paesi sono già registrati, e quindi la possibilità di avere accesso a questi farmaci per il momento è vincolata all'ottenimento di alcuni protocolli di studio che utilizzano proprio questo tipo di molecole. Ecco, professoressa, mi ha parlato di questi farmaci, ma sono disponibili nella nostra regione? Com'è possibile accedervi? Quelli già in commercio, quindi approvati dalle autorità regolatorie, sono assolutamente disponibili, sia per quanto riguarda farmaci biologici a bersaglio biomolecolare, sia per quanto riguarda l'immunoterapia. E naturalmente i pazienti che dovessero avere le indicazioni per poterle appunto ricevere, potranno riceverli nei centri oncologici presso i quali sono in cura, perché sono assolutamente fruibili e disponibili. Poi se parliamo invece di terapie non ancora commercializzate, quindi come dicevamo in fase di sperimentazione, logicamente anche qui si può accedere in maniera totalmente gratuita a queste terapie, ma lo si può fare solo nell'ambito di protocolli sperimentali e naturalmente quindi in quei centri in cui i protocolli sperimentali sono attivi e disponibili. Quindi è importante parlarne con gli oncologi curanti. In Ancona abbiamo un centro dedicato alle sperimentazioni cliniche, quindi disponibile per tutti i cittadini della nostra regione e non solo, e possiamo tranquillamente fornire questa opportunità nel momento in cui ci siano le condizioni legate alla patologia e legate alle altre eventuali patologie a concomitanti che ne possano appunto consentire l'utilizzo. Ecco, professore, ho sentito parlare di alcuni nuovi farmaci che colpiscono dei geni. Ecco, ce ne vuole parlare? Sì, beh, questo è un periodo in cui c'è una grande attenzione a quelle che sono le mutazioni di geni che possono essere importanti appunto per la cura delle patologie tumorali. In ambito di tumore del polmone questo è particolarmente vero, particolarmente evidente ed è cambiata la storia naturale di questo tipo di tumori che una volta erano molto molto aggressivi. Esistono delle mutazioni, una tra tutte la mutazione del gene chiamato EGFR, che possono consentirci di utilizzare dei farmaci che hanno come bersaglio proprio questo gene. In altro ambito, per esempio parlando di tumori dell'ovaio, abbiamo addirittura farmaci verso un gene che si chiama BRCA, che è un gene piuttosto famoso. Ne abbiamo sentito parlare soprattutto in ambito di ereditarietà. Ecco, tra l'altro una cosa che le volevo chiedere, tale proposito, quanto è importante la genetica insomma nello sviluppo dei tumori? Perché poi un caso mediatico molto importante è stato quello di Angelina Jolie. Sì, Angelina Jolie ha portato l'attenzione su un elemento fondamentale, che è quello della famiglia. Perché abbiamo parlato con il dottor Pistelli di fattori di rischio modificabili, ma ce ne sono alcuni che effettivamente modificabili non sono e sono la nostra storia, la nostra famiglia. Angelina Jolie aveva la mamma e la zia che sono morte rispettivamente per tumore del seno e dell'ovaio ed è andata a verificare se appunto nella famiglia rappresenta un gene che poteva essere trasmesso di generazione in generazione. Ereditarietà vuol dire proprio questo, avere appunto un patrimonio genetico che abbiamo ereditato dai nostri genitori, dai nostri nonni e che a nostra volta possiamo trasmettere ai nostri figli. E se questo patrimonio genetico presenta delle mutazioni, ovvero delle alterazioni, possiamo in qualche modo essere predisposti all'insorgenza del tumore. Professoressa Berardi, che cosa possono fare quindi le persone per verificare se l'ereditarietà ha un ruolo nella loro famiglia? In prima battuta possono senz'altro riguardare un po' la loro storia, la storia della loro famiglia, l'albero genealogico. Perché se sono presenti alcuni elementi, tra cui l'aggregazione, cioè la presenza di più casi appunto di tumore nell'ambito della stessa generazione della famiglia, la verticalità, cioè più generazioni interessate da diversi tipi di tumore o dallo stesso tipo di tumore, la precocità, ovvero l'insorgenza in un'età che non è quella comune per quella patologia, a esempio l'insorgenza di un tumore del colon a 35 anni non è normale perché è una patologia dell'adulto anziano, o infine l'anticipazione, ovvero un'età più precoce di insorgenza nei vari familiari di generazione in generazione. Beh, se sussistono anche solo alcuni di questi elementi, la persona può già accedere e rivolgersi ad un centro specializzato, in particolare nella nostra regione abbiamo il centro di riferimento regionale di genetica oncologica proprio in Ancona per un counseling genetico, cioè per una consulenza specialistica su questa tematica. Ecco, dottor Pistelle, tale proposito, vogliamo dire che cosa significa sottoporsi ad un test genetico? Di fatto la prima cosa da fare è effettivamente capire se ci sono i criteri giusti per procedere con il test genetico, quindi la consulenza genetica che accennava la professoressa Berardi è la base di partenza. Devo dire che il paziente deve essere fortemente motivato a fare il test genetico, questo per tutte le implicazioni che poi il risultato del test porta con sé, quindi implicazioni di carattere personale, familiare, sociale, ci sono persone che decine di fare il test e che poi magari non vengono a ritirare la risposta. Quindi da questo punto di vista il paziente deve essere autonomo e scegliere liberamente di farlo. Il test in sé è una cosa abbastanza semplice per il paziente, perché si viene con l'impegnativa mutualistica, si fa il counseling genetico e il test è un prelievo di sangue, da cui viene estratto poi il DNA che viene mandato ad analizzare. L'analisi in realtà è molto complessa, perché si vanno appunto ad analizzare alcuni geni, in particolare i geni BRCA, se la paziente ha un sospetto di ereditarietà per tumore della mammela e dell'ovaio e la risposta, proprio perché è un'analisi molto complessa, avviene dopo alcuni mesi dall'esecuzione del test. Ecco, una volta il dottore che si è trovata una mutazione, che cosa significa per quella persona? Che cosa dovrebbe fare? Sicuramente il test dà dei vantaggi, perché trovare una mutazione genetica significa identificare il rischio per quel paziente di poter sviluppare un cancro. Questo non significa che obbligatoriamente il paziente svilupperà questo tipo di problema, ma significa che è un rischio maggiore rispetto alla popolazione generale di poter sviluppare questa problematica molto importante. Bisogna vedere anche qui la tipologia di mutazione. Ci sono mutazioni genetiche che non sono, ad esempio, note come significato, quindi vengono definite proprio da significato sconosciuto, quindi non sappiamo interpretarle, non sappiamo che valenza dare a questo tipo di mutazioni, quindi anche qui rimane un pochino di incertezza. Se invece il test dà effettivamente il riscontro di una mutazione genetica che ha una correlazione nota in letteratura per lo sviluppo del tumore della mammella o del tumore dell'ovaio, in questo caso, allora è necessario attivare tutta una serie di percorsi che riguardano la sorveglianza clinica del paziente, quindi un monitoraggio intensivo per una diagnosi precoce. E questo monitoraggio può essere anche con metodiche, ad esempio, abbastanza aggressive. Si può discutere con la paziente, ad esempio, se è il caso di procedere con una mastectomia profilattica, se è un rischio alto di tumore della mammella, o di asportazione dell'ovaio, dell'utero e delle tube, perché magari ha un rischio elevato di tumore dell'ovaio. Quindi la scelta è molto personalizzata e va discussa attentamente con la paziente. Ed è chiaro che il riscontro di una mutazione genetica può portare a cercare di identificare nella stessa famiglia se ci sono altri soggetti portatori, e quindi identificare soggetti sani che però sono a rischio e quindi monitorare questi soggetti, anche in questo caso per ottenere una diagnosi comunque precoce. Dottore, nella nostra regione dove è possibile fare questo test e chi può farlo? Allora, il test innanzitutto deve essere fatto da persone che hanno sviluppato la malattia. Quindi i soggetti sani vengono testati solo dopo che è stata riscontrata una mutazione genetica in un paziente che ha già sviluppato una problematica oncologica. Nella nostra regione l'unico centro regionale è il centro di genetica oncologica dell'Università Politecnica delle Marche e ospedali uniti di Ancona, dove si accede appunto tramite appuntamento, tramite contatto telefonico con l'impegnativa del curante per l'esecuzione del test, ma in particolare prima della consulenza genetica, come appunto abbiamo accennato precedentemente, poi ci sono le indicazioni per fare il test genetico. Il test per la paziente è gratuito, quindi non ha un costo, anche se in realtà il test poi ce l'ha, perché effettivamente come diciamo prima è un'analisi molto complessa di questi geni, tant'è che parliamo ad esempio di alcune migliaia di euro a test genetico, proprio come analisi molecolare appunto complessa. Per i soggetti sani c'è invece un piccolo ticket da pagare, si accede sempre con l'impegnativo del curante. Ecco, professoressa Berardi, negli ultimi mesi si parla molto di rete oncologica, insomma si è assistito dei cambiamenti nell'oncologia delle marche, può illustrarceli? Negli ultimi mesi effettivamente stiamo lavorando molto con tutte le oncologie del territorio alla creazione di una rete oncologica, perché non si può lavorare come singola identità all'interno di una regione peraltro tutto sommato piccola e caratterizzata anche da rapporti di eccellente collaborazione tra le varie strutture e tra i vari oncologi in particolare, ma occorre necessariamente lavorare in rete. La rete garantisce ai pazienti, ai cittadini, alle famiglie di poter accedere alle medesime cure, di poter avere cure di qualità in qualsiasi centro si rivolgano. La rete consente, laddove non vi sia, nell'ambito di un centro, una metodica di diagnostica o una qualche terapia, di poter appunto far riferimento alla rete e quindi di poter accedere a queste ulteriori indagini, magari presenti solo in alcuni punti della regione, in maniera equa per tutti quanti. Quindi stiamo lavorando appunto con le varie strutture per identificare il miglior modello di rete e applicarlo nella nostra regione. Il modello su cui stiamo lavorando è un modello anglosassone, quella del Cancer Center Network, che è di fatto un modello vincente appunto nei paesi anglosassoni, in cui il paziente deve fare tutto ciò che è possibile vicino al proprio domicilio. E solo laddove ciò non sia possibile, non sia possibile neanche spostare in qualche modo l'equipe medica, può accedere a cure o a atteggiamenti diagnostici in altra struttura. Inoltre la rete passa anche attraverso un supporto a 360 gradi appunto del paziente, come un po' accennavamo prima, un supporto che va oltre le cure ma che prende per mano il paziente e lo accompagna per tutto il percorso della sua malattia, anche per quanto riguarda le esigenze sociali, le esigenze di tipo diverso, familiari, di cui può necessitare. Professoressa, nella vostra struttura state insomma creando un Cancer Center. Ci vuole dire di che cosa si tratta? Si tratta di fatto della possibilità di avere una sorta di istituto oncologico che non è naturalmente un istituto ma che è un insieme di percorsi proprio finalizzati al paziente che accede all'ospedale e che può, o naturalmente un paziente con un sospetto di tumore o un tumore, che può trovare facilitati in tempi velocissimi tutti i percorsi diagnostici e terapeutici. Il Cancer Center si inserisce proprio in quello di cui parlavamo prima, il Cancer Center Network, quindi all'interno di una rete in cui la nostra regione Marche può dotarsi appunto di centri specialistici diffusi sul territorio che lavorano in sinergia in rete tra loro, rete tra operatori, rete naturalmente anche col territorio e rete con tutti gli altri specialisti che concorrono alla migliore gestione dei nostri pazienti. Bene, ora noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo tra poco, sempre con i nostri ospiti e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Questa è la stagione giusta per creare un movimento nuovo. Ottimo, ho un'idea! Muoviamoci verso il Jumod, il nuovo centro scarpa di Monsano. I ragazzi trovano l'ispirazione giusta per creare nuovi look e la famiglia va sul sicuro con i modelli di calzature classici e firmati per uomo, donna e bambino e per gli sportivi. Il nuovo Jumod ti sorprende anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Allora muoviti! Jumod ti aspetta a Monsano, ora aperto anche la domenica pomeriggio.